Antomani siamo con il vincitore della Mila e Mila 2009, Amari, Bruno, un amico, una persona straordinaria, ha avuto un incidente poco tempo fa con la Bugatti sempre, ha voluto partecipare ugualmente in condizioni fisiche molto peggiori delle mie, scusate, quindi certamente nessun male, però è un guerriero e ancora più con noi. Due parole per gli amici di Antomani. Innanzitutto non la cambiamo, scusa, cioè il mio risultato è lo specchio fedele della mia prestazione, siamo partiti male giovedì, abbiamo fatto un bellissimo capitolo venerdì, tanto da arrivare a ridosso del primo Roma, poi ieri mattina siamo partiti col piede sbagliato, come si dice, non siamo più riusciuti a recuperare, anche perché quest'anno il campo dei partenti era decisamente di altissima. Noi abbiamo una pava, non ho ancora capito veramente, prima sesto, poi sesto, poi ottavo, perché mi ha detto che è stata eliminata anche la prova 41, per cui abbiamo scalato di nuovo la prova. Comunque ci riproveremo il prossimo. L'amico Bruno è un grande, sicuramente lo vedremo ancora ai vertici delle classifiche con la sua meravigliosa Bugatti e con il suo film. Grazie, alla prossima.